Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento del quindicinale. Oggi ho preparato una scaletta in questi quindici giorni dove poter affrontare diversi argomenti. Dal razzismo alla funzione del manager, visto che Marchionne è morto e se ne è parlato, sembra il super uomo. E quindi anche le funzioni del manager in questo sistema. Dal razzismo imperante, che fra l'altro chi spara ai braccianti migranti sembra che non è più razzismo, ma sono goliardate che si fanno, ai 16 morti in provincia di Foggia con incidenti stradali, quindi il caporalato, alla Turchia che è un colasso finanziario, alla guerra commerciale tra Russia ed America, alle spiagge la denuncia fatta da Lega Ambiente, alle spiagge il 60% è in mano ai privati. Cioè ce ne sono tantissimi argomenti da discutere, fra cui l'inquinamento eccetera. Però l'argomento principe che ha preso il sopravento in questa settimana, dal momento del crollo del ponte, parlo del ponte di Genova. Ebbene, sembra che tutti siamo diventati esperti. Prima eravamo esperti 50 milioni di allenatori della Nazionale di Calcio, oggi siamo quasi 50 milioni di esperti di quel ponte, il ponte Morandi, che è crollato. A fronte della tragedia, se ne parla, ma è una questione giustamente di emergenza, pensate se fosse stato un attentato terroristico di cosa ci sarebbe parlato, ma l'attentato terroristico può essere stato anche, poteva essere anche lo scoppio da Bologna, della guerra cisterna di GPL che è scoppiata, mai 16 morti dei braccianti, mai 43 morti del ponte di Genova, ma anche i 3 morti ogni giorno sul lavoro. Ecco, sono effettivamente dei disastri, ma che tutti quanti hanno una matrice. Qualcuno mi dirà, ma sei il solito che dice da sempre la colpa al sistema sociale. Beh sì, è il sistema sociale che si basa sul profitto, che si basa su ognuno, nel suo piccolo deve rispettare questa legge generale del mercato, della manolunga del mercato, eccetera. Allora, affrontiamo anche noi questo problema del ponte crollato di Genova. Anni fa venne fuori, uscirono dei libri di scritti, è una raccolta in pratica di scritti di Amadeo Bordiga. Amadeo Bordiga è il fondatore del Partito Comunista nel 21, è stato il primo segretario, anche se in realtà non era la segreteria, cioè non c'era il segretario, c'era una segreteria che gestiva il Partito Comunista d'Italia, sezione della terza internazionale. Uscirono una serie di articoli che poi furono raccolti in libri. Uno si intitola Imprese Economiche di Pantalone e furono raccolte di scritti intitolati sul filo del tempo dal quotidiano, dal quindicinale dove lui scriveva il programma comunista, in quegli anni si chiamava Battaglia Comunista, dal 1949 al 1952, e tendeva a dimostrare come le imprese economiche di Pantalone è la sintesi di questa logica, dove per sviluppare un settore economico, oggi tipo le autostrade, l'eterificazione dell'Italia e altre cose, ci volevano un sacco di soldi, un sacco di soldi di investimento iniziale. Il primo investitore è proprio lo Stato, perché ha la capacità di raccogliere, fa l'esattore, perché attraverso le tasse impone delle accise ai propri amministrati, e questo può far sorgere un settore economico, tipo le autostrade, o in quegli anni fece sorgere l'industria chimica, attraverso l'IRI, istituto ricostruzione industriale. Ebbene, questa valanga di soldi, che poi si dimostrò anche lì, come adesso scoppiano gli scandali, anche in quel periodo, nel dopoguerra, c'erano gli scandali, gli sprechi venivano chiamati, ebbene, dopo aver improntato tutta quest'opera gigantesca di costruzione industriale, di autostrade, ma anche, per esempio, adesso mi viene in mente anche la stessa ILVA, del settore acciaio, dopo aver buttato una valanga dei soldi pubblici nell'industria, si scopre che questa va privatizzata, e viene svenduta a quei gruppi industriali, quei forti gruppi industriali, quando noi, per esempio, parliamo di borghesia, sono questo il settore che poi comanda effettivamente, oggi si parla di Benetton, ma si parla meno degli Agnelli, non si parla della Pirelli, non si parla di costi gruppi industriali che determinano poi la politica italiana, per quanto riguarda qua, ma altri gruppi industriali stranieri influenzano le politiche dei loro paesi. Ebbene, se siamo, e viene svenduto, questi si fanno proprio dei soldi che la collettività aveva messo, e ci guadagnano, finché possono, come l'ho dimostrato adesso le autostrade, ma la chimica è la stessa storia, l'ILVA è la stessa storia, cioè il privato succhia il sangue di questa infrastruttura finché può, risparmia sui costi, e poi quando è lo sfacelo ritorna allo Stato, il quale ha il compito di rimettere in funzione, rimettere in piedi quello che gli altri hanno fin quel momento guadagnato, quindi hanno i Benetton, sappiamo sono partiti da vendita, da costruire magliette, ad essere investitori in autostrade, nelle ferrovie con grandi stazioni, eccetera. Ebbene, lì io adesso non vi tedio in tutto quello che oggi, questi giorni, si è scritto sul caso del ponte crollato. Quello che volevo, e nessuno lo dice mai, anche oggi sull'Espresso ne risulta, abbiamo perso tutti, diceva, ma tutti chi? Abbiamo perso tutti noi proletari, e non lo Stato che è in mano agli oligarchi che governano, e creanole anche le condizioni perché succeda quello che sta succedendo. Facciamo un semplice esempio, una banalità, oggi abbiamo tante auto perché negli anni passati si è fatto una politica che doveva agevolare la vendita di auto perché altrimenti le fabbriche di auto in mano a Danielli non potevano produrre, c'era la cassa integrazione, c'era il licenziamento, e allora per fare questo cosa c'è bisogno? C'è bisogno che l'auto diventi un bisogno primario, da un'auto a famiglia si è passati a un'auto a persona, le auto, un'auto a persona vuol dire anche dove ci stanno, vuol dire anche costruire strade, sempre più strade, vuol dire consumo di territorio, più auto, quindi più strade e chi costruisce strade ha tutti gli interessi per Fardo e anche nel ponte di Genova vediamo che c'è un'altra soluzione, cioè quella di ricostruire il ponte ma costruire anche un altro svincolo, la gronda e quindi consumo di territorio, eccetera, però per fare questo, per far sì che il bisogno di avere l'auto sia un bisogno primario, bisogna far sì che i mezzi pubblici non funzionino, bisogna far sì che la città siano distribuite nel territorio, è un bellissimo esempio di alternativa, se adesso la regia per favore mette in questo link che vi do è www.thevenusproject.com ed è la è della dimostrazione di un urbanista che ci c'è l'alternativa a questo sistema di progettazione che è piratesco, l'importante è che non sia il profitto che ci guadagna. Provate a dare un occhio a questo link che è molto interessante e come la progettazione di un ingegnere che ormai ha quasi cento anni dedicato la sua vita a un progetto di costruzione alternativo di circolazione cioè delle città fatte in modo circolare oggi le città non sono così oggi le città sono progettate in non sono neanche progettate nascono un po' così di qua e di là ma tornando al al nostro al nostro al problema del ponte non si troverà mai il colpevole o si dà o dobbiamo dire il colpevole il sistema e quindi va cambiato altrimenti le stragi continueranno beh sappiamo che comunque non è il primo ponte che cade no in Italia ci sono altri punti che cadono allora qui si dirà questo ponte è stato costruito 50 anni fa non c'è non c'era il flusso di auto che c'è adesso ma allora dovemo ritornare al discorso come mai il flusso delle auto è aumentato è che siamo tutti diventati impazziti e amiamo l'auto certo che amiamo l'auto perché se dobbiamo andare faccio un esempio al supermercato i supermercati sono fatti fuori delle città e quindi per andare a fare la spesa dobbiamo prendere l'auto gli autobus non ci sono non funzionano le ferrovie per i pendolari non funzionano si preferisce fare l'alta velocità ma quindi non è colpa del progettista qual è la colpa allora la colpa si dirà è dei supertir per esempio c'è venuta fuori la proposta di Zaia di bloccare i supertir nelle strade del Veneto nei punti perché questi supertir sono molto più pesanti di quanto sono stati progettati i punti ma perché si costruiscono i supertir perché il supertir vuol dire quindi hanno un peso maggiore questo permette di trasportare più merce meno viaggi vuol dire che la merce alla fine viene a costare meno ma perché perché chi porta in giro quella merce ci deve risparmiare quindi nel costo dei trasporti ma non è finalizzata a portare al bene collettivo questo è il supertir supertir l'obiettivo immediato è quello di risparmiare quindi chi fa questo tragitto aumentare il proprio profitto tutti questi meccanismi sono logiche individualiste della imprenditorietà individuale non c'è quel piano generale di produzione dove si tenga in considerazione il bene collettivo dove si tenga in considerazione l'armonia della produzione con l'ambiente circostante e il bisogno umano perché anche la gronda che verrà fatta in sostituzione o in aggiunta poi fra l'altro in sostituzione del ponte caduto non diminuirà o farà avvenire meno il problema del traffico anzi più strade ha dimostrato che portano più auto e quindi il territorio viene massacrato e quindi avremo poi e Genoa ne è un esempio avremo poi le alluvioni e abbiamo tutto tutto quello che ne consegue le montagne che franano i fiumi che non tengono più la massa d'acqua che improvvisa che arriva ma perché sono stati cementificati o anzi addirittura intombati e Genoa ne ha di queste dimostrazioni però non si troverà mai il vero colpevole che è il sistema non lo diranno mai che è il sistema si parlerà sempre di fame del profitto qualcuno ci ha voluto guadagnare di più eccetera ma non si entrerà mai nella denuncia chiara del sistema di produzione capitalistico basata sul profitto perché il sistema di produzione capitalistico basato sul salario il salario è già una rapina perché non si capisce come mai qualcuno deve vivere sul frutto del lavoro degli altri quindi se è già una rapina non si può pensare di smussare qualcosa in modo tale che il meccanismo possa andare avanti e quindi basta oliarlo un attimo e andrà a posto a fronte di questo c'è un altro libro sempre di Amadeo Bordiga che è anche qui una raccolta di scritti fatti negli anni 50 apparsi su il programma comunista sono i drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale e lì si dimostra con dati alla mano in pratica che è il sistema che crea le condizioni per vi do un esempio quindi c'è un secondo link che è www.quinterna.org pubblicazioni rivista 08 decostruzione urbana che riassume un po' riassume il riporto a uno di questi scritti ma poi all'interno del sito dell'organizzazione quinterna appunto org prego la regia di metterlo in onda potete trovare un sacco di documenti riguardanti i drammi sociali che questo sistema crea il profitto il mantenimento il predominio sulle vie delle fonti energetiche la Siria quindi la guerra e l'affamamento delle persone le brutture storture che vengono fuori da questo sistema le possiamo tutte collegare a questo sistema basato sul profitto e quindi non potrà mai cambiare se non siamo noi a mettere noi ultimi a mettere una discussione chi è l'oligarca di turno il borghese di turno difenderà questo ma attenzione il borghese io quando parlo di borghese non identifico soltanto quello che ha soldi ma anche il borghese mantiene il suo potere creando anche questa mentalità del profitto e olia bene si ammanta anche di una struttura ideologica altrimenti non potrebbe non potrebbe si previvere si ammanta dai libri dai film dalla scuola stessa che viene esaltata come il fulcro del sapere dalla filosofia e tutto questo meccanismo per mantenere il loro potere sarà difficile che uno studioso famoso no è da dire che questo sistema va eliminato se dice questo non apparirà più in televisione non pubblicherà più libri o non dovrebbe pubblicare libri perché il suo obiettivo non dovrebbe essere il profitto ma dovrebbe essere quello di far sì che le idee diventino carne per cui noi ultimi quindi anche il sottoscritto denuncia questo cioè il sistema o si cambia il sistema o il sistema ci uccide tutti ma non ma non il singolo non io ma la specie umana che è messa in discussione da tutto questo inquinamento da tutto questo correre per il profitto ma non è perché uno è cattivo perché se non sta nel meccanismo viene soccombe e quindi viene soppresso ecco una riflessione un po' su questo e un occhio su quei su quei siti che io ho dato e che la regia ha messo su facebook o che dove voi possiate guardarli è una riflessione che dobbiamo fare io non vorrei ripetermi ma sul ponte crollato e su tutti quelli che crolleranno su tutti i disastri che verranno fatti dovete guardare proprio il profitto e il sistema sociale che va ormai cambiato e abbattuto con questo vi lascio ci vediamo fra 15 giorni sperando di non avere altri disastri da commentare ma ne dubito ciao a tutti e grazie per l'ascolto e ci risentiamo fra 15 giorni grazie per la visione